raga siamo qui ok è passato sono entrata e ho trovato un amico di ender non te conosco eri prima un mio amico comunque vuol stare registrando sono una youtuber io raga prima vio fotocose Sì, sì. Sì, sì. Non andate vicino a quello bianco. C'è un occhio che ci sta fissando lì sopra. Sì. 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 Il titolo. Sì. 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 Sì.